Loro oggi abbiamo Nicola e Rocco, minorenni, no non è vero, 18 anni ragazzi, studenti che vogliono migliorarsi e formarsi. Non è una sviolinata, l'ho già detto, tutta la mia stima e tutto il mio apprezzamento. Ma tutto bene, no? Mi siete addormentati solo con caccia? Speciale, spettacolo, li vedo che stanno riflettendo. Allora, sulla bianca, genovese, buchi e onde. Margherita Bucata, cosa ne dice? Meravigliosa. Lei? Mamma mia. Nicola? Brivedi. Questa è una bella vista, ma che roba. Guardate la differenza, il quarantenne che deve mangiare una fettina microscopica e il diciotenni che muoglia buffo, giustamente. Così va la vita. Che vogliamo fa? Tendentemente uguale solo. Vai, vai, faccia la domanda in diretta. Quali sono i corsi che vanno di più? Beh, focaccia va tanto, non può tutti. Farcita intanto, ragazzi. Buon appetito. Ciao. Trancio classico. Spontini fatta bene. Voi mi sa che non sapete che è Spontini dal Trentino. Bye. Buon appetito. Grazie. Buon appetito.